L'Europa degli immigrati delle tasse, l'Europa dei Juncker, della Merck di Macron è il capolinea. Il 26 maggio gli italiani manderanno a casa lei, Presidente Juncker, e i commissari come la Vestager che hanno rovinato gli spalmatori italiani. Noi, con il nostro leader Matteo Salvini, siamo pronti a cambiare da cima a fondo questa Europa schiava delle banche e delle lobby di potere. Noi vogliamo costruire una nuova Europa, un'Europa diversa, un'Europa che difende i confini, che ferma l'immigrazione clandestina, che tutela il Made in Italy e i nostri lavoratori. Cari Juncker e burocrati europei, in questi anni avete combinato disastri e avete umiliato il popolo italiano ed i popoli europei. E gli italiani, con grande orgoglio, finalmente, tra poche settimane, vi manderanno a casa. Noi della Lega saremo il primo partito d'Europa, perché il voto del popolo italiano sarà una vera rivoluzione di democrazia e di libertà.